Ciao! In questo video torniamo su tre distro Linux su cui in passato abbiamo già discusso in modo più approfondito. Calculate Linux, Linux Lite e Taxido OS. Così come ha fatto in precedenti occasioni, anche stavolta andremo a riprendere tali progetti poiché ognuno di essi, nel corso degli ultimi mesi, ha visto cambiamenti o novità rilevanti e dunque adesso andremo ad analizzare proprio ciò che è variato dall'ultima volta in cui ne avevamo parlato. Al solito il video è suddiviso in capitoli per facilitare la fruizione ed è ordinato alfabeticamente. Si parte con Calculate, una distro ottimizzata per l'uso in ambienti aziendali, ma ovviamente è installabile anche su computer domestici. La particolarità di questa distribuzione è che è basata su Gentoo Linux, ma soprattutto che include molte funzioni preconfigurate. Di Calculate in realtà non abbiamo approfondito con un focus dedicato, quanto più è stata partecipe della panoramica su Gentoo e sue derivate di qualche mese fa. Da allora il progetto ha visto alcuni grandi cambiamenti che adesso analizzeremo. Prima però è bene ricordare che questa distro è distribuita in 5 versioni. La Desktop o CLD, la Directory Server o CDS, la Scratch o CLS, la Scratch Server o CSS e la Container o CLC. Per ognuna esistono isolive avviabili, utili per capirne il funzionamento poi eventualmente per copiare l'OS su disco. E già su questo aspetto vale la pena soffermarsi un attimo. Uno degli obiettivi di Calculate, infatti, è rendere molto più semplice l'installazione di Gentoo. E, quantomeno nell'edizione CLD, troviamo un installer grafico che, seppur non sempre intuitivissimo, in ogni suo passaggio consente comunque di configurare tutto il necessario per arrivare alla copia su disco di un OS pronto all'uso. Di fatto, Calculate è un modo più comodo e semplice per avere sul proprio PC un'installazione preconfigurata di Gentoo. Come sappiamo infatti, Gentoo Linux richiede impegno e un bel po' di conoscenza da parte dell'utilizzatore affinché anche la sola prima installazione possa essere completata, per non parlare della gestione quotidiana. In Calculate questi ostacoli vengono rimossi grazie appunto al setup grafico e ad alcuni tool, chiamati Calculate Utilities, che rendono immediata la manutenzione del sistema. Da quello grafico per la gestione degli aggiornamenti, a quello stesso, sempre grafico per la gestione remota dell'intero computer. Parlando di update, derivando da Gentoo, Calculate è caratterizzata dallo stesso modello di rilascio rolling, ma, a differenza di Gentoo, qui viene fatto in primo luogo uso di file binari piuttosto che compilare in loco ogni pacchetto. Sappiamo che anche Gentoo ultimamente ha reso disponibili sui propri repo le versioni binarie della maggior parte del software e librerie, tuttavia l'utilizzo comune rimane quello di compilare sul proprio PC la maggior parte, se non tutti, i pacchetti, al fine di ottenere una configurazione ad hoc per la specifica macchina in uso. Calculate rimane comunque compatibile con tali pacchetti sorgenti di Gentoo, recuperabili via Portage, dando però sempre la priorità ai binari. Quindi, ancora una volta, Calculate Linux semplifica l'uso di Gentoo per i meno esperti, pur consentendo loro di continuare ad accedere a tutte le feature della distromadre. Poi, al pari di Gentoo, Calculate non utilizza Systemd, preferendogli l'uso di OpenRC. Ripartendo dalla panoramica di maggio, da allora le principali novità introdotte nel progetto sono state il passaggio dal profilo Gentoo 17.1 al 23.0 e dei profili ne abbiamo parlato ampiamente nel video dedicato a Gentoo a cui si rimanda per approfondire il riguardo. Nel frattempo il progetto Calculate Linux ha compiuto 17 anni, segno che è stato in grado di ritagliarsi una propria fetta di utenza e a consolidarsi. Ed infine, Calculate è diventata release-free nel senso che ora le Nightly Build sono i rilasci ufficiali, in modo simile a ciò che fanno Gentoo o Arch Linux. Insomma, non vengono più realizzate ISO specifiche ogni tot tempo, ma semplicemente le ISO vengono costruite in modo automatico a partire dai più recenti snapshot estratti dai repo. Un approccio molto più comodo nel mondo delle distro rolling poiché evitando di, tra virgolette, perdere tempo a preparare e promuovere ogni rilascio puntuale, si può sfruttare quello stesso tempo per realizzare ulteriori miglioramenti. Inoltre, chi scarica le ISO live avrà sempre gli ultimi e più importanti update di sistema già out of the box. Insomma, come già ribadito più volte, Calculate è probabilmente la derivata di Gentoo più, tra virgolette, famosa, che consente di accedere a quel mondo senza richiedere eccessive conoscenze da parte dell'utente finale. Gentoo, in quanto distro con rilasci rolling, ha costantemente pacchetti aggiornati, seppur non segua una evoluzione e bleeding edge come Arch, e di conseguenza anche Calculate è sempre sufficientemente aggiornata a livello di applicazioni o librerie, con il vantaggio di offrire direttamente i binari senza richiedere compilazione in loco. Per chi lo desidera è comunque possibile compilare ogni pacchetto partendo dai sorgenti di Gentoo. Detto ciò, le ultime novità proprio in casa di Gentoo hanno reso questo specifico vantaggio relativo a binari meno rilevante, però Calculate continua ad avere setup, configurazioni e quant'altro pensati per un'esperienza out of the box semplificata rispetto alla distro upstream, e quindi continua sicuramente a rappresentare un modo facilitato per avvicinarsi al mondo Gentoo. Parlando di semplicità d'uso, Linux Lite è una delle distro più famose derivate da Ubuntu LTS, ideata specialmente per chi proviene da OS commerciali e magari cerca un sistema leggero per ridare vita a computer non più recentissimi. Proprio su questo aspetto qui sul canale abbiamo più volte approfondito, sia con una panoramica sulle principali distribuzioni per PC AG e nello specifico sia con un confronto tra Linux Lite e Body Linux, due distro derivate da Ubuntu atte allo scopo. Non solo, sul Lite siamo anche tornati di recente, quando la distribuzione è passata alla versione 7.0 con l'allineamento ad Ubuntu 24.04 LTS. E dunque, sapendo che Lite rilascia soltanto aggiornamenti con numeri pari di versione , che cosa può essere cambiato di così rilevante con una sola minor release dall'ultima volta che ne abbiamo parlato? Beh, in realtà sono state modificate tre cose su cui può valere la pena dare un'occhiata. Intanto, Lite Updates, cioè il tool grafico per installare gli update di sistema, è stato completamente riscritto in EAD che offre una maggiore flessibilità rispetto al precedente Zenit e in futuro consentirà di espandere la stessa utility ed aggiungere altre opzioni. Per il momento, l'aspetto generale ed il funzionamento rimangono pressoché identici a quelli di prima, ma appunto la base è mutata per consentire miglioramenti e nuove feature nei mesi a venire. Detto ciò, una delle più grandi aggiunte a Lite è AI Lite, una utility presente non sulla distro in sé quanto più sul sito ufficiale del progetto con cui l'utente può interagire per ottenere aiuti sull'uso del sistema operativo. Ad esempio, è possibile chiedere come eseguire una data operazione o dove trovare una data impostazione e l'assistente virtuale farà del suo meglio per aiutare. Non è ancora perfettamente accurato, ma avendo un approccio in stile chat è possibile interagire con esso e magari insistendo ottenere informazioni più accurate. Come si nota in video, in questo caso il tool aveva dato un'informazione errata riguardo a come modificare il tema grafico, ma poi è stato in grado di correggersi. E proprio la modifica dei temi è la terza novità. È stata infatti creata l'app DIM Manager che facilita l'aggiunta o la selezione di nuovi temi grafici per desktop, icone e cursori del mouse. Il tutto a portata di click. Nulla di eclatante chiaramente, ma sapendo qual è il target a cui Lite mira, sono proprio questi semplici strumenti ad essere tra i più apprezzati. Detto ciò, non ci sono altre novità di rilievo. Lite, dal 2012 ad oggi, continua ad offrire una implementazione custom di XFCE su base Ubuntu LTS mirando ad attrarre i principianti di Linux e di utenti di Windows, facilitando la transizione dall'OS commerciale di Microsoft al mondo del pinguino. E parlando di derivate di Ubuntu LTS, Taxido OS ha finalmente aggiornato la propria base ad Ubuntu 24.04. Ora, di Taxido OS ne avevamo discusso in modo più approfondito nel video dedicato agli OS sviluppati dai produttori hardware, cioè quelle aziende che costruiscono e vendono computer con preinstallato Linux. E infatti, Taxido OS è realizzato da Taxido Computers, azienda tedesca che da anni produce laptop e PC con appunto la possibilità di avere già out of the box una qualche distro. Dal 2022, Taxido Computers ha dato vita alla propria distribuzione Linux, omonima su base Ubuntu, al fine di supportare meglio i propri prodotti. Di fatto, però, l'OS può essere installato su qualsiasi PC, pur perdendo alcune funzioni molto utili ma compatibili solo con l'hardware dell'azienda. In ogni caso, rispetto ad Ubuntu, Taxido OS non contiene Snap. Si concentra in particolar modo sull'offrire sempre l'ultimo kernel Linux disponibile ed una versione più recente di KDE Plasma, oltre che integrare driver e stack mesa più aggiornati possibile così da facilitare il supporto per le ultime periferiche hardware o applicazioni che fanno largo uso di librerie grafiche, come i videogame. Inoltre, pur basandosi sul lavoro di Canonical, Taxido OS sfrutta propri repository, gestiti da hosting provider situati in Germania. Questi repo fanno da mirror per quelli di Ubuntu, quindi per lo più contengono gli stessi pacchetti, ma garantiscono che vengano scambiate meno informazioni possibili dagli utenti al di fuori del proprio ecosistema. Taxido Computers offre inoltre anche supporto diretto per l'OS, quando chiaramente è in uso sui propri PC. Tra le altre peculiarità di Taxido OS c'è il Taxido Control Center, il quale permette, tra l'altro, il controllo e la gestione delle ventole, il clock della CPU e della GPU, la regolazione della luminosità della tastiera, ecc. Ovviamente solo sui computer di Taxido. Non manca l'utility WebFi che consente di installare e reinstallare in modo semplice il sistema operativo sul PC. Taxido OS 4 è l'ultima release pubblicata di Taxido OS e porta con sé, come anticipato, l'allineamento ai pacchetti di Ubuntu 24.04, ma anche i Kernel 6.11, KDE Plasma 6.1.5, KDE Frameworks 6.6, KDE Gear 24.8.1, Mesa 24.2.4, i driver Nvidia 560.35.03, Firefox 132 e Thunderbird 128.3.2 i quali non sono ovviamente Snap come subunto, ma pacchetti DEB a tutti gli effetti. Aparmore 4.0 ed una versione più recente di Calamares, la 3.3.10, per il setup iniziale. La notizia più importante di tutte, però, è che dalle prossime release Taxido Computers abbandonerà i numeri di versione per Taxido OS, ed il sistema sarà rinominato semplicemente Taxido OS. Questo perché la distribuzione esegue un modello di rilascio aggiornamenti ibrido che sta a metà strada tra quelli cadenzati nel tempo e i rolling. La base, infatti, è point, visto che è il legame con le versioni LTS di Ubuntu. Mentre, come abbiamo visto, kernel, driver, applicazioni e quant'altro hanno aggiornamenti costanti nel tempo, completamente slegati da quelli di Ubuntu. Quindi di fatto il numero di versioni dell'OS, release dopo release, ha un po' perso di significato. Finora era stato usato per indicare un, tra virgolette, salto generazionale, come con la versione 3 di cui abbiamo parlato qualche mese fa che aveva visto l'arrivo di KDSI, o l'ultima 4 che allinea tutto ad Ubuntu 24.04, ma appunto sono numeri che non sono in grado di far capire che cosa esattamente cambi rispetto alle versioni precedenti. E dunque tanto vale eliminarli. In soldoni, Taxido OS, un po' come PopOS, è una delle distribuzioni Ubuntu-based che consente di avere kernel, ambiente desktop, driver e quant'altro più aggiornati rispetto agli avanzamenti di Ubuntu LTS, e dunque è anche una di quelle maggiormente consigliate per l'uso su PC recenti, specialmente se si vuole rimanere a tutti i costi nel mondo Ubuntu-Debian. Taxido Computers è tra i maggiori sponsor del progetto KDE, e dunque il suo sistema operativo è anche uno dei più consigliati per i fan di tale mondo, molto più che usare Ubuntu o affidarsi a KDE Neon, il quale, come abbiamo visto più e più volte, non è il massimo per l'uso quotidiano, ma fa più che altro da showcase degli sviluppi più recenti. Tu che ne pensi? Apprezzi il lavoro di Calculate per rendere Gentoo più abbordabile, o quello della comunità Lite per far avvicinare sempre più utenti a Linux, oppure ancora il supporto che può dare un'azienda commerciale come Taxido che vende PC con distro preinstallate? Ti aspetto nei commenti. Nei prossimi giorni arriveranno nuovi video su altre distribuzioni, se questo ti è piaciuto iscriviti al canale e soprattutto fammi sapere nei commenti se preferisci il mondo e l'approccio di Gentoo oppure quello di Debian Ubuntu. Se hai richieste riguardo altri OS Linux-based per cui vorresti vedere un video dedicato, non esitare a farmelo sapere con un commento qui sotto. È tutto per questa puntata, a presto!